Ciao a tutti, oggi ho il piacere di annunciarvi la nascita del nuovo centro estivo Cairoli Dedicata a tutti i bambini, di età compresa tra 0 e 7 anni Un parco giochi di mille metri quadri, con un bellissimo prato verde e giochi rinnovati Con una piscina privata a uso esclusivo dei bambini del centro estivo Cairoli Ma non è finita Dalle 7 alle 18 e 30, musica, hip hop, video, fotografia, sport e tante altre attività Sotto l'occhio vigile delle nostre maestre e dei nostri tutor specializzati Il prezzo? 90 euro alla settimana, compreso di pranzo, merenda e piscina tutti i giorni Per informazioni dettagliate, contatta questo numero o vienici a trovare a Voghera in via Fanti d'Italia 3 Centro estivo Cairoli per un'estate da vivere insieme Ciao!